Il prefetto di Salerno Francesco Russo, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri, ha disposto alla sospensione del Consiglio Comunale di Albanella ed ha nominato commissario prefettizio per la provvisore amministrazione del Comune, in attesa dell'egredo di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, il vice prefetto ha aggiunto la dottoressa Clelia Ardone. Il tutto è scaturito dalla sfiducia messa in atto contro il sindaco Enzo Baggini. Sette consiglieri hanno firmato davanti al notaio Giovanni De Bartolomeis le loro dimissioni, determinando la fine dell'amministrazione cittadina. Scarsa sensibilità per la risoluzione delle problematiche sociali, ambientali e del mondo animale, mancata condivisione delle linee politiche, mancanza di comunicazione nei confronti della comunità, incoerenza degli impegni assunti. Queste le motivazioni concrete messe nero su bianco nell'atto di sfiducia. La firma dell'atto è dei consiglieri di maggioranza Antonella Maraio, Dino Verrone e Michele Cerruti, appartenenti al Partito Socialista Italiano, e i quattro consiglieri di minoranza Renato Iosca e Paola Zunno del gruppo Vinci Albanella, Pasquale Mirarchi e Chiara Ofiero del gruppo Viviamo Albanella. La crisi era nell'area da tempo, si era particolarmente acuita dopo la dichiarazione di indipendenza del Presidente del Consiglio Comunale, Dino Verrone, fino ad arrivare alla sfiducia dal notaio. Grazie a tutti.